126.483 euro e qualche spicciolo, a tanto ammonta la somma sequestrata dalla Guardia di Finanza a Alexander Pereira, ex sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dopo le dimissioni presentate lo scorso febbraio ufficialmente per motivi personali. Ma già il suo nome era iscritto sul registro delle notizie di reato della Procura di Firenze, che stava indagando sulle spese da lui sostenute. Secondo la Procura, Pereira si sarebbe appropriato di soldi della Fondazione attraverso il rimborso di spese personali e attraverso l'uso della carta di credito per pagamenti estranei alla sua funzione. Gli investigatori in particolare contestano l'utilizzo di fondi della Fondazione per spese di trasloco per notamenti in hotel, voli, aerei o in elicottero, tutte spese non rimborsabili per contratto. All'ex sovrintendente anche altre contestazioni, aver ottenuto il pagamento diretto da parte di due fondazioni estere dell'affitto della sua casa a San Casciano Valdipesa, canone elargito, si spiega, anche per la sponsorizzazione del Maggio Musicale. In un primo momento il giudice delle indagini preliminari aveva rigettato la richiesta del sequestro preventivo depositata dalla Procura. Procura che non si è arresa e ha presentato appello trovando l'accoglimento del Tribunale sulla scorta del quale è entrata in azione la Guardia di Finanza.